Il dibattito è andato anche, lo ha fatto soprattutto Salvini nelle ultime settimane, sui famigerati parametri di Maastricht. Lei già una volta disse quei criteri in sé per sé da soli sono stupidi. Ma io l'ho detto per bacco, il che vuol dire bisogna fare la politica economica organica. Ma non abbiamo avuto da Salvini nessun messaggio su cosa fare in modo compatibile con il nostro debito. Qual è il messaggio? Una felpa al giorno toglie il debito d'intorno? Il problema è di dare concretezza alla politica e poi a mettere gli errori. Io credo benissimo che la politica economica europea abbia visto nella leadership germanica una politica sbagliata. Ci sono stati tanti errori, ma attenzione, una cosa è correggere gli errori e una cosa è tagliarsi le radici del futuro. Che destino ha l'Italia? Saremmo sempre più isolati? La domanda è del tutto isolato, litiga con tutti. La politica è gioco di squadra, in politica il problema è farti gli amici e gli alleati e poi dopo chiedere qualcosa. Noi ci stiamo isolando, tra l'altro è un fatto nuovo. Ma neanche ai tempi di Berlusconi che lei visse da Presidente della Commissione europea, neanche allora c'era questo livello di inconsistenza? Le tensioni singole dei confronti di Berlusconi, ma poi Berlusconi furbescamente si inserì nel Partito Popolare, cominciò a tagliare alcune sue asperità, a giocare di sponda e tutto sommato, non come ai nostri tempi, ma riuscì a inserirsi seppure un po' marginalmente le gioche europee. Adesso proprio non ne vogliono sapere una. Che effetto le ha fatto vedere quell'ostentazione di simboli religiosi da cattolico? Non si può strumentalizzare la religione. Chiaro che Salvini l'ha studiato a tavolino, aveva un rosario televisivamente visibile, gli dì a poi che teghi il rosario in tasca fa ridere tutti, no? Sanno tutti come stanno le cose. Perché? Perché si è inserito in un movimento della politica che usa la religione come suo strumento di potere. Guardi che avviene in Russia, avviene negli Stati Uniti, è una tendenza generale nuova da studiare con molta attenzione e con molta preoccupazione. Ma può avere un impatto sul voto cattolico quell'ostentazione? Un impatto negativo, secondo me. Zingaretti sta dicendo qualcosa dal suo punto di vista? Zingaretti ha riaccorpato il partito che era indispensabile, no? Poi dopo le elezioni, se avrà, come io penso, un risultato positivo, potrà produrre il ridovamento. Aveva una campagna elettorale in cui il problema era la colla, non era la benzina.